Come state ragazzi? Sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video REACTION E' da un sacco di tempo che non facevo più un video di action Ma oggi finalmente eccomi qui Mi avete richiesto in tantissimi di fare la reaction al video Balla, 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 balla Di Elettra Lamborghini Ah, devo dire che la canzone l'ho sentita solamente due volte E la prima volta ero tipo là Cosa sto ascoltando? Mio dio è orribile Volevo pem 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 all'infinito Vabbè dai, orecchiabile La seconda volta era fare un giro Balla, 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 balla Cioè così praticamente era la situa Però non importa ragazzi E' uscito il videoclip ieri, l'altro ieri Se non so quando caricherò questo video Quindi volevo assolutamente fare la reaction con voi Mi raccomando se questa tipologia di video reaction Ai video musicali vi piace C'è un fantastico thumbs up Un like Così poi ne farò anche altri, 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 altri e altri Vi ricordo che io ho una playlist Con tanti smeg video reaction A tutti e a tutto Quindi non potete perdervela So che c'è una luce abbastanza orribile Oggi mi arriva anche da qua Solamente che oggi c'è il sole E va così Quindi sono un po' arancione Barra autoabbronzante poraccio Ma adesso armiamoci di cuffie Per una volta ragazzi Non sono ingrebugliate Perché io sono preparato prima E niente E ascoltiamo Ha già quasi un milione di views ragazzi In quante ore? Non si sa Perché è troppo lunga La scritta non si vede Ecco ve lo dico anche qua Naturalmente nel video Non potrò ammettere la musica originale Per il copyright Quindi sentirete la canzone A caso Via No raga Primo su tendenze ragazzi Wow Allora Outfit Sembra carino Dove in un ufficio Naturalmente outfit Molto sovrimo Adesso è scoperto La tendenza parrucca Raga ma quando che sono al parcheggio Dell'Esse Lunga Scusate No ma Mamma mia Ma io vorrei sapere una cosa Dovrei fare un appello allo stylist Ma dove trovi questi pantaloni per lei? Cioè vorrei sapere Sono pantaloni tutti Con il sedere di fuori Cioè tutti Ha sempre dei pantaloni Che si vede sempre Il divino Pesca La divina pesca Sono un po' male Mettate così Ma non mi importa Quel rossetto raga Non si può molto guardare Sinceramente Anche io faccio così Quando devo rincorrere Qualche insetto sul pavimento Qualche ragno Che devo catturare Si ha outfit molto sobri Devo dire Ma come la cos'è L'hanno arrestata Ah ma si è tolta le manette Brava Ah no qua Rientrata in prigione Il video pam pam è stato girato Anche il giorno Mi ricordo Anche col tramonto Invece questo qua è praticamente Per adesso Tutto di sera E ha ambientato Quindi con tutte le luci artificiali Cioè Twerca ovunque Qualunque Cioè In tutti i luoghi In tutti i mari In tutti i laghi Sto torcando Sto morendo Vabbè Alcune pettinature Alcune parrucche Sono un po' Poraccitudine A snow limits Sono un po' Poracce Cioè Tu che c'hai Potevi comprartene Un po' più di fibra Naturale Non so Twerca anche sulla scrivania Ragazzi Sì Ah le ragazze L'applaudono Mentre twerca Lei E le altre Brava Twerchi bene Twerca anche Ah Twerca No ma Ragazzi Ma che sedere enorme Ma scusate Ma ne è cresciuto Nel senso Lo scorso video Fatemi sapere nei commenti Quei cosa ne pensate Ragazzi Assolutamente Ora Tutti che Mentre twerca Applaudono Per dire Vai così Twerchi Molto bene Comunque Vuole fare un po' Di concorrenza A Mickey Minash Ragazzi Questa cosa L'ho capita Direi che l'ho capita Anch'io E finisce qua Allora Allora Devo dire che Come canzone Forse Ho preferito Un pello di più Pam 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 Perché Poco è un po' Più di ritmo Pam 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 Capito Però So già che tanto Mi abitueremo Anche questa qua Ci piacerà un sacco Anche questa qua Già in tre ascolti Ce l'ho già in mente Quindi la sua tecnica Del ronzio dell'orecchio Sta funzionando Ragazzi Poi vabbè Il video è sempre molto bello Molto American style Molto internazionale Non come quelli italiani Che sono tutti ambientati In un campo Tutti che piangono Uè Uè Che tristezza Ma qua c'è un po' Di movimento Movimento Comunque ragazzi Non so voi Ma io lettera da cantante Ce la vedo tantissimo È super carina Poi ci sta un sacco Fare anche con tutti i look È super international Quindi veramente A prova Vabbè ci sta un sacco Poi anche di pace È veramente Super super carina Veramente strabella E poi è veramente Super super sexy Cioè veramente È sexissima Anche il video Con tutto Fatto un po' Tutto di notte Con tutte queste luci strane Tutte le ballerine Cioè veramente Super international International videos Quindi veramente A prova È super mega bellissima E lettera Ti amiamo Quando è che andrà Al GF O all'isola Veramente Chi stiamo aspettando Davvero Non vediamo l'ora Bene ragazzi Questo video Reaction Finisce qui Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Tramite un commento Qua sotto Mi raccomando E fatemi sapere Nei commenti Quale altra Prossima reaction Devo Acer Mi raccomando Seguitevi sempre Su Instagram Su Facebook Su Tumblr Su Snapchat E su Musical.ly Vi mando un bacione A tutta la prossima Ciao Buongiorno 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 Buongiorno